Siamo arrivati qui nei pressi della piazza Venezia, al monumento del Vittoriale, il corteo sta giungendo su questa piazza dove si terranno gli ultimi comizi fino alla fine. Siamo arrivati qui nella piazza Venezia. Siamo arrivati qui nella piazza Venezia, al monumento del Vittoriale, il corteo sta giungendo su questa piazza Venezia. Siamo arrivati in piazza, al monumento vocativo dove prenderanno la parola alcuni tra i promotori della manifestazione, alcuni tra gli altri, non solo spagnoli ma anche italiani. E vi preghiamo tutti di restare uniti. Diamo una simulazione di unità di compattezza.